Ciao Enrico, come stai? Mi spendi il microfono nel posto giusto. Ah, ecco, anche col microfono. Sempre con la testa storta, io. Secondo che ho il capello, la timo rosa fondata, questa qua. Ok. Allora, quindi che cosa... Che cosa ti dà davvero fastidio? Che cosa ti dà davvero fastidio? Bella. Bella? Ma tu sei già riprendendo? Sì, tanto. Ok. ma questo davvero è troppo non funziona guarda in macchina che cosa ti dà davvero fastidio che cosa ti dà davvero fastidio ho sbagliato tipo ma ha fatto tipo è questo è questo è solo che è questo e poi come è questo ti dà fastidio ti dà fastidio tu dimmi quando e questo ti dà fastidio però così col sorriso così va bene e questo ti dà fastidio prova prova da oggi questo lo puoi evitare brava che fanno le parole così perché questo ok da oggi questo lo puoi evitare però un po' più tipo col sorriso da oggi questo lo puoi evitare da oggi questo lo puoi evitare ok ho capito da oggi questo lo puoi evitare eh no perché poi a forza di farlo non sai più cosa oddio ok Grazie.